Allora possiamo incominciare questa nostra diatriba su un concetto che, come già stato detto, è abbastanza spinoso. Io metto subito naturalmente le mani avanti perché, devo dire, io sono un logico matematico e l'interesse che ho nella questione della razza, così come quella del genere, perché poi vedremo che le due cose vanno praticamente in maniera parallela, dicevo l'interesse che ho in questo argomento è semplicemente di natura logica, cioè mi interessano le definizioni, mi interessa sapere quando si usa una certa parola, come la si usa e soprattutto far vedere, sottolineare che una stessa parola viene usata in contesti diversi, in maniere completamente diverse. E quindi non si può dire, per esempio, come è stato accennato, che per esempio nel caso delle razze ormai la comunità scientifica è d'accordo sul fatto che delle razze non bisogna parlare, perché non è affatto così, dipende da cosa significa appunto per comunità scientifica e spesso si confonde la comunità scientifica con una visione culturale molto più ampia che spesso con la scienza non ha nulla a che fare. Però poiché siamo in un contesto filosofico, appunto filosofarti, io direi di partire da lontana, da molto lontano, per far notare come il problema delle razze, non soltanto delle razze, delle specie, dei generi, di tante altre cose, non è altro che una versione moderna di un problema antico che nel Medioevo era centrale nella filosofia scolastica, che è il cosiddetto problema degli universali. Noi di fronte a noi abbiamo degli individui, nel caso poi di cui parliamo quest'oggi sono proprio gli individui nel senso in cui lo si intende in genere nel linguaggio comune, cioè gli uomini e le donne che ci vediamo di fronte, ciascuno di loro è un individuo a sé stante e il problema è che esistono dei gruppi all'interno di questi individui, tanto per cominciare io ho appena citato la parola uomo e su questo forse nessuno ha da discutere e nessuno ci pensa, ma anche il concetto di umanità, cioè di specie umana, in realtà è un concetto che è abbastanza problematico, anzi più in generale si potrebbe dire che è problematico il concetto di specie nella biologia moderna. Noi diciamo ma come gli uomini non sono una specie? Beh come facciamo a capire per esempio qual è la differenza che c'è fra noi e fra certi animali, detti mammiferi superiori come li si chiama, certe scimmie in particolare, che ci assomigliano molto e che a volte sono quasi indistinguibili da noi per comportamento e addirittura anche per i tratti somatici. Uno dice ma come gli si vede a occhio? Certamente non si può definire la specie in base semplicemente alle caratteristiche esteriori, perché altrimenti quello sarebbe anche già subito una definizione di razza e avremmo finito il nostro discorso. Come si definiscono le specie nella biologia moderna? Beh ovviamente non c'è, o forse non tanto ovviamente per chi magari pensava che ci fosse, non c'è una definizione di specie che sia condivisa e soprattutto che copra l'intero spettro della vita animale o addirittura poi se uno vuole dare una definizione ancora più vasta anche vegetale. Quindi quando si parla di specie spesso si dà una definizione che risale a un signore che si chiama Meyer un secolo fa, che è una definizione che va bene per quelle che si chiamano le specie sessuate, cioè coloro che si riproducono attraverso il sesso e in particolare quelle che si riproducono attraverso due sessi. Uno può dire ma come perché ci sono tanti altri sessi? Beh la cosa è interessante perché molto dipende appunto dal contesto in cui ci si pone, soprattutto il contesto animale e ci sono delle specie animali che hanno semplicemente un sesso, sono autonome come si potrebbe dire e si riproducono senza avere bisogno di rapporti sessuali per l'appunto con esseri dell'altro genere. Ma guardando nella direzione contraria ci sono per esempio delle specie in cui i sessi sono più di due, addirittura ce ne sono alcune in cui i sessi sono migliaia, questa è una cosa molto interessante che renderebbe la vita molto più divertente anche per gli uomini, noi purtroppo siamo una specie poco artistica diciamo da questo punto di vista, abbiamo soltanto due sessi, per esempio certe specie di funghi hanno circa 10.000 sessi e la riproduzione sessuata si può fare soltanto in alcune direzioni ed è una cosa estremamente complicata, quindi sono graduazioni sessuali diciamo che a volte appunto sono molto numerose. Noi comunque apparteniamo a una famiglia di mammiferi che si riproduce sessualmente attraverso due sessi e quindi si può dire che siamo di una specie diversa da altre quando i nostri individui sono in grado, maschi e femmine, di riprodursi e di fare una prole che a sua volta è in grado di riprodursi, quindi sono capaci di riproduzione e di produrre degli offspring, come si dice, delle discendenze che a loro volte siano feconde. Ora uno può dire benissimo, allora la specie umana sicuramente è definita in una maniera precisa, noi se ci riproducessimo per esempio con alcune specie diverse di scimmie non potremmo fare dei figli, diciamo così, non potremmo avere discendenza, meno che mai una discendenza che sia prolifica a sua volta. Però la biologia moderna ci dice che ci sono state in precedenza altre specie di uomini, di Homo come si chiama, la nostra specie che si chiama Homo sapiens, in realtà ha convissuto con altre specie, la più famosa delle quali è il Neandertal. Ora ricerche e scoperte recenti, proprio genetiche, ci dicono che il nostro DNA ha in parte dei geni del Neandertal. Ora come li ha avuti questi geni? Naturalmente non è che i geni saltano da una persona all'altra e si ritrovano poi nella discendenza sessuale di queste persone. Evidentemente ci devono essere stati dei rapporti sessuali tra l'Homo sapiens e l'Homo neandertalensis, come lo si chiamava, cioè tra i sapiens e i Neandertal, e questa discendenza non soltanto ha prodotto dei discendenti, ma addirittura questi discendenti dovevano essere fertili a loro volta se il DNA dei Neandertal si è inserito all'interno del DNA del sapiens e finora addirittura noi ne portiamo le conseguenze. Quindi cominciamo a capire che il concetto di specie, data appunto dalla definizione di specie, data da Maier, cioè due individui sono della stessa specie, se essendo di generi diversi possono riprodursi e i loro discendenti sono a loro volta fecondi, e beh allora questo significherebbe che l'Homo sapiens e l'Uomo di Neandertal appartenevano alla stessa specie. Quindi i biologi e i genetisti cominciano a avere dei problemi, in questo caso, a distinguere fra queste due specie. Immaginiamoci nel momento in cui già il concetto di specie è così fazio, così vago, cosa poi succede con il concetto di sottospecie o di razza, come più comunemente viene definito. Il problema quindi degli universali, come si sarebbe posto nel Medioeo, è questo. Noi oggi al mondo siamo circa 8 miliardi, 7 miliardi e mezzo di persone che a prima vista appunto appaiono appartenere ad un'unica specie che è la specie dell'Homo sapiens e ciascuno di noi è un individuo. Tutti noi messi insieme facciamo la specie, ma fra questi due estremi, fra l'estremo dell'universale specie, cioè quello che oggi in matematica si chiamerebbe l'insieme di tutti gli uomini, e l'altro estremo che sono invece gli individui isolati uno per uno, è possibile fare delle altre suddivisioni oppure no? Cioè ci sono dei sottoinsiemi che si possono definire in qualche modo dell'insieme degli uomini e che poi potremmo chiamare questi sottoinsiemi per l'appunto specie. Oppure, visto che la divisione si può fare anche in altre direzioni, possiamo dividere gli uomini, l'Homo sapiens, gli quasi 8 miliardi di Homo sapiens che abbiamo oggi al mondo, in due classi diverse che invece di essere considerate razze sono considerate generi, cioè maschi e femmini. Ed è per questo che dicevo che in realtà il problema della razza e il problema del genere sono due problemi di natura dal punto di vista logica perfettamente analoga che consistono appunto semplicemente nel cercare di definire dei sottoinsiemi dell'insieme degli uomini o degli esseri umani per evitare appunto una terminologia che già implica una distinzione di genere. Ora, il problema è come si fanno le definizioni? Beh, tutto dipende naturalmente dal punto di vista in cui ci si pone. Quando oggi si dice che non è possibile distinguere le razze e addirittura anche i generi, perché poi le due cose vanno perfettamente insieme, parallelamente all'interno dell'insieme degli esseri umani, si dice che questa è una posizione scientifica mentre invece assolutamente non lo è, questa è una posizione umanistica e in particolare sociologica. Quindi dobbiamo capire che quelli che parlano in questo modo e soprattutto in questa maniera transhan, sono i sociologi e soprattutto le sociologhe quando si parla di questioni di genere e in particolare le sociologhe americane, che sono ancora una cosa, una sottospecie tra l'altro pure loro, di questa vasta area che è la sociologia moderna, spesso postmoderna, il che è detto appunto in un congresso, una manifestazione di filosofia, ha un connotato ben preciso che è esattamente quello che volevo dare. Cioè è una posizione postmoderna dire che tutto è una costruzione sociale e che non esistono i generi, che non esistono le razze e così via. È una posizione spesso che raggiunge facilmente il ridicolo. Faccio un esempio, tanto per appunto essere chiaro, proprio la sociologia americana già da decenni, questo ormai già dagli anni settanta, arriva addirittura a dire che anche la storia, come viene insegnata nelle scuole, nell'università eccetera, è un costrutto sociale. Sappiamo tutti che ovviamente la storia, per esempio, come dicevano già gli antichi, è raccontata dai vincitori, quindi naturalmente non si deve prendere come oro colato, ma qui l'attenzione va in una direzione diversa. Cioè si dice che la storia è un costrutto sociale ed è un costrutto di genere. E la cosa ridicola a cui accennavo è che potete controllare, tra l'altro andando addirittura su Wikipedia inglese, naturalmente perché le due parole sono inglesi, queste sociologhe americane sostengono dagli anni settanta che la dimostrazione o una delle dimostrazioni, una delle prove che la storia è una storia maschile, è raccontata dal punto di vista maschile, è nel nome stesso di storia, che in inglese si chiama history. E loro dicono his è un pronome naturalmente maschile e quindi dobbiamo smetterla con questa history e incominciare invece una visione della storia femminile che si chiama history. E vedo che qualcuno sorride naturalmente sul video e la cosa fa effettivamente ridere, ma andate su Wikipedia inglese e vedrete che ci sono pagine dedicate alla history. Ora, questa è una posizione sociologica e l'idea di negare l'esistenza delle razze da una parte e l'esistenza dei generi sessuali dall'altro si basa proprio sul fatto che i sociologi pensano che ci siano definizioni semplicemente basate su criteri sociologici. Per esempio le razze sono insiemi di persone che condividono la stessa cultura, la stessa storia appunto alla quale c'è nata adesso, la stessa lingua di cui invece parlerà poi Andrea Moro tra poco e così via. Queste cose sono tutte ovviamente posizioni sociali e poiché sono molto vaghe e hanno confini diciamo estremamente poco ben definiti, dunque non si può parlare né di generi da una parte né di razze dall'altra. Ora questo può andare bene, naturalmente se uno è un sociologo può essere contento, però bisogna stare molto attenti perché questo con la scienza non ha nulla a che fare, la sociologia non è una scienza, è una parte ovviamente della cultura umanistica, un'altra parte di questa cultura umanistica e qui sto spostandomi pian piano perché è quello che vorrei fare in questo breve intervento di una mezz'oretta e far vedere che ci sono moltissime posizioni diverse a seconda appunto del contesto umanistico o scientifico in cui uno si pone. Una disciplina diversa dalla sociologia che si interessa dei gruppi, come dice la stessa parola, e la psicologia che invece si interessa più degli individui. Anche gli psicologi hanno i loro dubbi sull'esistenza delle razze da una parte e dei generi soprattutto dall'altra. Oggi è molto di moda parlare del fatto che indipendentemente da tutte le altre considerazioni e caratteristiche oggettive che una persona può avere, quello che importa è ciò che essa sente di essere. E faccio due esempi molto brevi perché sono caratteristici di quello che succede in queste discussioni, che sono ancora tutte nel campo umanistico, sottolineo questo fatto, perché poi c'è una divisione tra le discipline scientifiche e le discipline umanistiche abbastanza nette, perché, se posso dirla anche così in maniera un po' transciante, le discipline umanistiche si interessano appunto delle opinioni, quindi in particolare per esempio la percezione psicologica che uno ha di se stesso come genere o come razza. Mentre invece le discipline scientifiche si interessano più di quelli che vengono chiamati i fatti. Cioè in certo senso le considerazioni umanistiche sono soggettive e quelle invece scientifiche sono oggettive. Sono sicuro che il pubblico di Filosofarti non sarà completamente d'accordo con questa mia posizione, che è la posizione ovviamente di uno che appartiene a una delle due divisioni, ma tant'è quando parlo io naturalmente io dico quello che penso e poi eventualmente ci sarà un dibattito. Dicevo, volevo fare due piccoli esempi. Il primo esempio è di un signore che si chiama Bruce Jenner, che quasi quasi significa gender, ma si chiama Jenner, che è un signore che è diventato famoso nel 1976 perché vinse le Olimpiadi del 1976 in una disciplina che è una disciplina terribile, cioè che mette insieme dieci gare di atletica leggera, si chiama Decathlon, come tutti saprete. Questo signore non solo vinse le Olimpiadi, ma faceva il record mondiale, ovviamente nei maschi, di questa disciplina. Nel corso della sua vita questo signore è stato sposato tre volte ovviamente con delle donne, ha avuto sei figli da queste donne, non ha mai fatto operazioni chirurgiche di cambiamento di sesso, non ha mai fatto nemmeno trattamenti chimici, ormonali per esempio, che cambino l'equilibrio appunto ormonale della sua personalità. Quindi a tutti gli effetti è un uomo da tutti i punti di vista, però lui dice di considerarsi e di sentirsi una donna. Ora, la cosa naturalmente non si può confutare se lui si sente una donna, ma questa è una sua posizione personale, psicologica, ma questo non significa che soltanto per il fatto che uno si sente qualche cosa poi in realtà lo sia quel qualche cosa. E infatti da tutti quegli altri punti di vista ai quali poi adesso arriveremo in maniera leggermente più precisa, genere è un uomo che però si sente donna, si veste da donna, è diventato uno dei grandi portavoce, diciamo così, della transessualità, cioè di coloro che dicono che nonostante gli aspetti oggettivi c'è un aspetto soggettivo che è la propria percezione di se stessi. Nel caso delle razze c'è un esempio analogo di una signora che si chiama Rachel, non ricordo il cognome in questo momento, ma questa signora invece è una signora bianca che per molti anni della sua vita è rimasta bianca, i suoi genitori sono bianchi, che ad un certo punto ha deciso, o ha cominciato a sentirsi invece, di razza, come si voglia chiamare, nera. Ora, come è stata scoperta questa signora, perché ovviamente nessuno si interessa dei casi personali delle persone finché non diventano pubblici, è diventata pubblica questo caso, Dumesil credo che si chiami o qualcosa del genere, è diventata pubblica perché questa signora che all'apparenza oggi effettivamente sembra di etnia nera, cioè ha i capelli diciamo così molto mossi come di moda appunto in certi gruppi afroamericani, ha la pelle abbastanza scura a differenza di come ce l'aveva prima perché evidentemente in parte c'è del trucco, non c'è stato nessun cambiamento genetico, era diventata la portavoce di un gruppo appunto di politico di afroamericani, i quali quando hanno scoperto che in realtà questa signora che diceva di avere dei genitori neri è stata diciamo così smentita perché i veri genitori, quelli biologici, bianchi, sono andati in televisione e hanno dichiarato che in realtà questa signora era figlia loro, c'è stato uno scandalo da tutte e due le parti perché i bianchi dicono ma come tu ti vuoi far sentire nera, ti vuoi presentare come nera quando in realtà sei bianca e i neri che dicono ma come noi non ci vogliamo far rappresentare da qualcuno che invece non è dei nostri ma è in realtà un'intrusa, quindi addirittura ci sono state delle denunce penali con processi eccetera. Questi sono due tipici esempi da una parte di un uomo che dichiara di sentirsi donna psicologicamente dall'altra parte di una bianca che dichiara di sentirsi nera. Ma anche qui se uno vuole farlo non credo che dal punto di vista sociale ci debba essere nessuna preclusione nei confronti di queste persone ognuno si sente come vuole e ha il diritto di comportarsi socialmente appunto come una donna se è un uomo oppure come una nera se è una bianca e così via. Ma questo non significa che lo è. Per esempio è noto in medicina che c'è una patologia che si chiama la sindrome dell'arto mancante che è stata scoperta nello scorso secolo nelle guerre quando per esempio i feriti di guerra avevano delle ferite gravi per esempio avevano perso un braccio o una gamba per una bomba o per un'azione di guerra che invece continuano a mantenere la percezione dell'arto mancante che è una cosa terribile per esempio Oliver Sachs ha raccontato alcuni di questi casi clinici di gente per esempio che dice io sto soffrendo terribilmente perché ho il prurito nell'arto mancante e non riesco ovviamente a grattarmi questo prurito perché l'arto non c'è ora questo è un tipico esempio queste persone sentono di avere un arto che loro non hanno ma l'arto non c'è e allora è ovvio in quel caso che la questione è psicologica è meno ovvio nel caso appunto di qualcuno che dica io mi sento di un genere o di una razza di una specie diversa da quello che sono dico specie perché ci sono anche delle persone anche se queste vengono considerate purtroppo più fenomeni da circo che non invece dei casi da considerare alla stessa stregua di quelli che invece si considerano quando si parlano delle razze tra virgolette c'è per esempio una donna che dice di sentirsi gatto e quindi ovviamente una specie completamente diversa che non rientra nemmeno nella definizione di Meyer che dicevo prima cioè di poter produrre sessualmente dei discendenti che a loro volta siano fertili ma questa signora ha fatto di tutto quello che tutto il possibile per diventare simile a un gatto per quanto questo sia possibile si è fatta innestare dei baffi si ha modificato la forma degli occhi e del viso eccetera se uno guarda le sue foto effettivamente sembra un gatto un po' strano e quindi tutte queste cose vanno benissimo ma sono ricadono diciamo così nell'ambito psicologico e qui stiamo per passare il quadro invece il ponte che separa queste definizioni umanistiche da quelle invece scientifiche perché il primo passaggio che è quello semplicemente di guardare alla morfologia cioè di guardare all'esterno delle persone e di giudicare l'appartenenza a un genere o a una sottospecie una razza io userò la parola razza anche perché è inutile in questo dibattito fare i salti mortali proprio perché in realtà è di quello che stiamo parlando e dicevo la morfologia è quella che fornisce gli elementi più superficiali e anche più ovvi per determinare se qualcuno è un uomo o una donna oppure maschio o femmina oppure se qualcuno appartiene a qualche gruppo umano appunto che si può considerare una razza le cose più ovvie sono per esempio gli organi genitali quando uno ha la formazione di organi genitali maschili oppure femminili il modo in cui il sesso viene determinato ad esempio alla nascita e per l'appunto quello si guarda dall'esterno e se non ci sono malformazioni naturalmente possono sempre accadere malformazioni e soprattutto possono accadere delle situazioni in cui la cosa non è così chiara e allora queste però sono eccezioni che naturalmente magari potremmo discutere poi in altro momento cioè l'ermafroditismo ad esempio da una parte oppure l'ermafroditismo significa che ci sono in realtà tutti e due i caratteri sessuali sia maschili che femminili nello stesso momento oppure ci sono l'androgenismo dall'altra parte che è una cosa molto diversa tra l'altro questo ha un parallelo e lo dico perché c'è il mio amico Andrea Moro che dice che non riesco mai a trattenermi dal parlare di religione ma la cosa molto interessante è che spesso la teologia che ha a che fare con la natura la cristologia cosiddetta deve affrontare dei problemi analoghi cioè quando si dice per esempio nel credo che Dio che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo e qui si sta dicendo di lui due cose che a prima vista sembrano incompatibili fra di loro è come dire di qualcuno che è vero uomo e vera donna è possibile avere tutti e due i sessi nello stesso modo beh questo è per l'appunto l'ermafroditismo e invece dall'altra parte ci sono delle posizioni teologiche che dicono per esempio quella del vescovo Cirillo di Alessandria il miafisismo che dicono che Gesù non era né vero Dio né vero uomo ma aveva una natura che non era né quella divina perché tra l'altro non fa parte della natura divina di poter essere uomo né quella umana invece ed era un qualcosa di misto di mescolato a differenza dell'ermafroditismo in cui le due nature ci sono entrambe ma sovrapposte qui invece c'è una natura mista unica che non è né una né l'altra quindi vedete che anche dal punto di vista teologico si presentano problemi analoghi per questo sono partito parlando appunto del problema degli universali ma quando si entra nel campo scientifico poi ovviamente si può andare anche molto più a fondo che non soltanto l'apparenza che può apparire dal di fuori per l'appunto di vedere gli organi genitali in un caso oppure di vedere il colore della pelle o il colore degli occhi che è stato usato spesso per per decidere se una persona per esempio era ad esempio proprio di razza ariana perché poi era quello uno dei modi che risale tra l'altro all'inneo perché era l'inneo che considerava il colore degli occhi come uno dei caratteri essenziali per distinguere fra le varie popolazioni andando più nel profondo si può andare all'anatomia che è una cosa un po' più complicata e allora qui si può andare a vedere se a parte l'aspetto esteriore per esempio degli organi sessuali nel caso del genere o semplicemente della pelle o di certi tratti somatici nel caso delle razze ci sia qualche cosa di più profondo per esempio la presenza dell'utero o così via è noto ad esempio che gli esponenti o gli individui di certe razze io appunto come ho detto uso questa parola così tranquillamente in questa discussione gli esponenti di certe razze ad esempio si comportano bene in certi sport e male in altri quando uno guarda le olimpiadi ad esempio si accorge che sul podio delle gare di atletica soprattutto mezzofondo ad esempio ci sono sempre soltanto individui di razza nera e quando invece si guarda il podio delle gare di nuoto è esattamente contrario ci sono individui di razza bianca quindi qui evidentemente c'è una differenza che non è soltanto legata al polore della pelle ma deve essere legata all'anatomia più in generale per esempio nel caso del nuoto è probabilmente il peso specifico del corpo cioè legato al rapporto tra la massa muscolare e la massa ossea e così via quindi si entra più nel dettaglio e si possono distinguere gli individui in quel modo addirittura talmente si possono distinguere che i paleontologi quando scoprono un osso magari un pezzo di osso a volte ci fanno vedere un pezzettino di osso e dicono questo appartiene a questa specie questo appartiene a questa altra varietà e così via quindi non parliamo dei crani che ovviamente distinguono chiarissimamente l'uomo dalla donna oppure il neandertal dall'homo sapiens e così via quindi anche qui si sta andando sempre più nel profondo diciamo per la definizione dei generi da una parte e delle razze dall'altra ci sono addirittura livelli chimici ai quali si può andare e questo nel caso del genere oggi è estremamente usato cioè coloro che vogliono cambiare sesso tra virgolette o decidere per esempio un uomo che vuole diventare donna i transessuali possono farsi fare delle cure ormonali sappiamo che gli ormoni maschili e femminili che derivano principalmente appunto dagli organi sessuali cioè dai testicoli in un caso e dagli ovuli nell'altro caso e sono in una proporzione molto diversa tra i maschi e le femmine lo sono anche in proporzioni un po' più complicate nei gruppi etnici quindi nelle razze e quindi ci sono dei test chimici che si possono fare per distinguere i generi in un caso e le razze dall'altro addirittura questi test ormai vengono fatti perché c'è il problema dei transessuali che si presentano alle Olimpiadi è un problema grosso perché ovviamente la conformazione fisica dell'uomo è diversa da quello della donna e ci sono stati casi ormai a livello agonistico alto cioè addirittura si sta arrivando alle Olimpiadi e il Comitato Olimpico sta cercando di decidere quali devono essere i criteri per distinguere se un uomo è un uomo oppure una donna e quindi possa gareggiare nelle competizioni femminili o in quelle maschili ci sono dei video stupefacenti di persone che dichiarano di essere donne per esempio e che poi fanno in questo caso particolare di quelli che ho visto io recentemente nei campionati americani fanno la corsa ad ostacoli e vincono a mani basse naturalmente nei confronti delle donne le quali sono molto seccate perché dicono ma questo è come un doping però di natura fisiologica e da ultimo questo è l'ultimo criterio che si può usare per distinguere i generi da una parte e le razze diciamo così dall'altra c'è il DNA la genetica ora alcuni genetisti ma qui io tendo voglio sottolineare che sono pochissimi i genetisti che dicono che non è possibile distinguere le razze attraverso il DNA sono genetisti che spesso sono impegnati politicamente per motivi anche tra l'altro più che incomiabili motivi che sono stati citati nell'introduzione l'idea molto ingenua naturalmente che dicendo che non ci sono i sessi si elimina il sessismo e dicendo che non ci sono le razze si elimina il razzismo cosa peraltro assurda perché poi sappiamo benissimo che sia i generi che le razze vengono individuati dalle persone dalla massa diciamo così in base a criteri che sono quelli che ho citato in precedenza il colore della pelle la conformazione del corpo e così via e quindi sicuramente dire che non ci sono dal punto di vista genetico o i generi o cosa che ancora non si fa o le razze cosa che invece qualcuno fa ovviamente non elimina i comportamenti sociali che derivano da altre cose ma per smentire da un punto di vista pratico queste posizioni di questi genetisti che dicono che non è possibile distinguere le razze attraverso i test genetici anzitutto in qualche modo si confutano da soli perché dicono spesso beh quando facciamo il test del DNA facciamo la sequenzazione del DNA ci accorgiamo che noi non siamo di una razza perché siamo per il 30% asiatici per il 20% inglesi per il 40% sudamericani e allora uno dice ma scusa se si possono fare le percentuali addirittura di quale razza uno appartiene certo se uno dice che non c'è nessuno che sia al 100% di razza pura come si sarebbe detto appunto nelle ideologie che si vogliono confutare con queste posizioni un po' un po' ingenue questa è una cosa ovvia lo sappiamo tutti che nel nostro DNA ci sono per esempio geni che arrivano da animali addirittura da virus e così via quindi la purezza non esiste ma questo è un altro problema questo non significa che non si possono fare delle distinzioni all'interno ma dicevo quello che taglia la testa al toro è che il motivo principale e con questo appunto concludo questa breve carrellata il motivo principale per cui si nega l'esistenza delle razze perché sappiamo tutti che negli anni 30 del 900 con l'avvento del nazismo ma già anche prima perché il razzismo è ovviamente molto precedente pensiamo alla Russia per esempio Zarista pensiamo all'America perché poi i nazisti spesso hanno mutuato dalle leggi americane le loro regi razziali ebbene dicevo la concentrazione che c'era dell'attenzione era su quella che viene chiamata la razza ebrea ebbene la cosa sorprendente è che mentre tutti poi in Europa con la nostra cattiva coscienza di europei che siamo stati razzisti e spesso anche nazisti o fascisti nel passato ebbene invece di appunto noi non osiamo dire che gli ebrei sono una razza ma loro invece non solo lo dicono ma ci tengono e addirittura la Corte Suprema israeliana lo scorso anno nel 2020 ha ammesso i test del DNA per coloro che vogliono diventare israeliani che vogliono prendere la cittadinanza israeliana c'è la famosa legge del ritorno che permette agli ebrei che sono ebrei da una, due o tre generazioni a seconda dei casi di prendere la cittadinanza israeliana e ormai sono ammessi i test del DNA per dimostrare che è un ebreo e allora se sono ammessi i test del DNA vuol dire che gli israeliani perlomeno credono che non solo esista una razza ebrea ma che sia addirittura possibile definirla attraverso test del DNA che fanno che cosa? Beh, naturalmente due esempi brevissimi uno è il famoso cromosoma Y cosiddetto di Aronne che è un cromosoma che in qualche modo isola all'interno del gruppo ebreo quelli che vengono chiamati i leviti il cromosoma sacerdotale per questo lo si chiama cromosoma di Aronne e poi naturalmente i test si fanno soprattutto sui mitocondri che sono quelle parti che vengono trasmesse non per via paterna come i cromosoma Y bensì per via materna il motivo è ovvio perché l'ebraismo si trasmette ufficialmente anche la nostra legge italiana per dare il certificato di appartenenza alla comunità ebraica richiede che si sia figli di madre ebrea da almeno tre generazioni questo si trasmette per via materna quindi si fanno test sui mitocondri e addirittura all'interno dei vari dei vari gruppi ebrei ci sono dei sottogruppi questo è brevemente diciamo così il discorso che volevo fare quindi stiamo attenti quando diciamo non si può parlare dei generi non si può parlare delle razze eccetera perché questa è una posizione appunto sociologica che è contraposta a quelle che invece sono le risultanze scientifiche diciamo così risultanze che addirittura proprio coloro dei quali noi diciamo che non fanno parte di una razza invece pretendono di usare per dimostrare esattamente il contrario di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio grazie a tutti